buongiorno a tutti amici volevo farvi vedere questa sequenza di vignette oggi fatte per uno storyboard così per una campagna pubblicitaria pure volevo farvi vedere la prima che abbiamo come potete vedere un dottore qua un postino qua delle persone che guardano vedete qua un altro postino una postina una persona che potrebbe stare sopra un sotto un grattacielo comunque sotto una un'asta di bandiere che abbiamo questo splendido signore che era la giorgi che abbiamo una tigre e i cuccioli che abbiamo subito un viso di persona che non vi dico chi è non so se l'avete riconosciuto ecco qua ora facciamo il giro e ripresenta in tutte le dimensioni ecco qua questo video durerà tre minuti come avevo già detto no tre minuti per rappresentare le vignette non da raccontare la vignetta questo è per rappresentarle per dirgli per dirvi i lavori che ho fatti in precedenza e vi mostro adesso non come la vignetta che ho fatto di pelè di totti di immobile queste sono le vignette che ho fatto per scopi così di pubblicitari gli storyboard che li ripresenta adesso a voi con la speranza che voi possiate commentare e dirmi insomma ecco qua vedete ora io finirò questo video con questi con questi con questa bella tigre questi due cuccioli dunque un abbraccio grande da me eugenio emanuele ciao ai prossimi video ciao